Buon pomeriggio, signorina Francesca. Buon pomeriggio, signor Sheffield. Sa una cosa? I suoi figli sono a scuola. Niles è a fare la spesa. Potremmo farlo? D'accordo. Ciao, Francesca. Ciao, Max. Tu sei bellissima, Francesca. Oh, sei sopra i quarante e riesci a dirlo ancora così in fretta. Sono qua. Eccolo, è un ciglio, eccolo qui, l'ho tolto, Francesca. Bella copertura, Max. Che ti ha detto di questa storia dei nomi? Quello che ha la bancarella della verdura. Come cavolo fa a saperlo? Abbiamo insalata cappuccina stasera. Francesca, indovina. Il mio amico Billy mi ha invitato a passare le vacanze di Pasqua con i suoi in mani oriente. Oh, questa sì che è una cosa eccitante. Lo sa che suo padre è un sovrano? Sì, è il sultano del Crudistan. Caspita, chissà se conosce mio cugino Barry. È il re dei materassi. Papà, posso andarci? Maggie e Brighton vanno fuori. Oh, piccola mia. Anche se mi piace l'idea che tu conosca il Crudistan, è molto, molto lontano. Sì, tesoro. Vedrai che ci divertiremo anche qui. La casa sarà vuota, ci sarà solo tuo padre, io e... Sapete, anche a Niles piacerebbe andare in Medioriente. Oh, no. No, Niles, no. Io ho bisogno di lui qui. Io ho una montagna di lavoro da fare. Sa cosa le dico? Perché non l'accompagna lei. Scusami, cara. Sa... Io credo che la bambina ci rimarrebbe molto male se non potesse andarci accompagnata da Niles. Non è mai andata in nessun posto con Niles. Questa bambina, dico. Sta tranquilla, Gracie. Vai di sopra. Ci parlo io con tuo padre. Va bene. Forse qualche volta io sono troppo sottile. Ma con tutti i figli fuori in vacanza, noi potremmo chiamarci Max e Francesca in tutte le stanze di casa. Magari. Per quanto l'idea sia allettante, Francesca, questo è un momento pieno di lavoro per me. Ho degli investitori da ospitare qui e avrei piacere di offrirgli qualcos'altro oltre alla pizza surgelata a pranzo. Una volta sola e sono bollata a vita. Non capisco perché non vuole passare un po' di tempo solo con me. Ma chi ha detto che non voglio passare un po' di tempo solo con lei? Però ho anche dei doveri, ho un lavoro. Sì, è così. E ho molte spese, lo sa? Quest'anno quello che spendo per il cibo è raddoppiato. Per favore, lasci e si è assunta fuori da tutto questo discorso. Santo cielo. Va bene, allora me ne andrò laggiù nel deserto. Ma speriamo che non mi chiudano in un harem. Non ne lasciano più uscire quelle come me, sono richieste. Francesca. Signorina Francesca. So che tu e tata Francesca state litigando perché tu la vuoi spedire in Medio Oriente. Chi te l'ha detto? Lo spazzino. Grazie. 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 Grazie a tutti